devo scaricare il pack scritto in 14 WIPA io un po' 12 settimane riesco a fare due filmati wow va bene Michael De Cruz per aiutare con il design grazie signor Michael facciamo Arcade e le manchiamo Akeb Akeb RESTROY, RAID c'è anche i missili va bene wow me lo voglio fare celestino gamble che cazzo perchè c'è il tetris è un gioco di corso wow ah è per guadagnare il soldi vabbè corriamo non so come si corre uno, due, tre eccomi aaaa si sono bloccati si sono bloccati che cazzo che cazzo lasciali mi tocca rifarlo ho detto che mi chiamano Akeb akeb ok da dove cazzo parte? io non mi vedo perchè sono rosso se lo celestino aaa sono uscito fuori strada ah fanculo non ti bloccare contro di me ah ah oh shit wow ha fatto anche un record wiii datemi avversari sono già in Africa dove sono? non li vedo più però no adesso qui non ando male ecco trovo alcune qui aspettatevi eeeh i due si sono incastrati è il gioco delle macchine incastrate che magari in qualche versione hanno riparato questo bar ahahah 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 quindi tutti i giocatori vincevano perchè le macchine incastravano wow che cazzo quanti gigi ci sono? wow emozionante bello è emozionante race over ho vinto ha vinto a cab meno male che ha vinto a cab va bene dai cambiamo anche il gioco dai gravitation gravitation allora che cazzo è successo? ecco sono abbastanza carino di developa di 22X due settimane di James ciao da nessi scusami ma l'ho scritto in fondo che mi uccide Gra-vi-ta-tion Si, grazie Facciamo un certo game Che cosa è successo? What? Perché non riesco a vederlo? Questa è il fottuto XPX Che non me lo fa vedere? Ma spero ci va a vederlo Perchè non mi fa vedere il Gravitation? Maledetto, ho fottuto Gravitation che non funziona Non capisco anche perchè sta facendo questi bug grafici Vabbè, Gravitation lo saltiamo Quindi ci sono 13 giochi 14-1 Tutti noi si settivano di Gerard Ritoffner e Manfred Dogement Mettolo in nisi Wow Ah 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 Oh cazzo Ah 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 Oh f**k Si nuovo scopo Ah, sono un depredatore di gemme La mia vita è scavare in questi buchi Oh f**k Sono esploso Devo prendere tutte le gemme Fa un c**o Questa è la Roxy gem The Incredible Codeman Wow Questa deve essere divertente Wow è Pac-Man Però si deve dire che si sono spaccati per fare tutti questi giochi Vabbè Vabbè Devo prendere queste piramidi Di cui il Codeman immagino ne va da ghiotto F**k Va bene Intanto Sperate se è erunto Ah Quando muove le nefas Se non devo scorrere giù Va bene Ah Sono veloci eh Ah è molto veloci per Due secondi scarsi F**k C'è dove sono la chiavica eh Basta Sei bloccato Scusate Libero e complete Stanno venendo da capire i belliciti con questi schermi Eh, l'ho perduto! Game over! The incredible opponent! Adesso ditemi, io sono appena nemmeno respawnato! Dai! Oh, non è che è inefficiente! Vettromarcia! Ah, posso trappessare attraverso i fantasmi! Utile! Almeno Pac-Man andava con la dosi di violenza, dai! Ah, shit! Ahah, sono un fantasma! E' un fantasma! E' un fattuto! E' un fattuto! E' un fattuto! Dovevi fare il perfect! Il perfect! Eh, si! Va bene! E' un fattuto! Completo questo schema e basta! E' un fattuto! E' un fattuto! E' un fattuto! E' un fattuto! No! 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 Ah! Ahahah! Shit! E' un fattuto! Basta così! Diciamo grazie all'Incredibile Common Man! Terra incognita! E' un RPG! Lo farò per ultimo, dai! E' un Fattuto! E' un Fattuto! E' un Fattuto! E' un Fattuto! c'era anche un uomo, ma... mi sarebbe andato a finire vabbè, io non ho quello più come si gioca allora questo domino dovrebbe saltare oh merda, ho dato una explosione shit, what the fuck da qua, oh che salto e prendetelo così, verdi, uomini di merda muovetele in culo muovetele in culo muovetele in culo uuuu nooo no, me la fredda è una gran bada si ha preso tutti i culo io ho solo finito il livello ma così posso muovere velocemente uiii 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 così si fa e rimanano così per tutta l'eternità uiii 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 uuuu uuuu e dai 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 Allora, dai, facciamo una livellatura, basta, dai, basta così, fanculo, ti odio, per questo faccio scoprire tutto, facciamo yoyo, cazzo, boccato il ferro. Si, e poi, eh, adesso possiamo spaccare di tutto, eh, se, e poi, per quanto riguarda il canale, c'è la scoperta, Ti odio, per questo ti cambia.